Premio Imago 2011 da parte dei Lions Biella-Valli Biellesi al nostro direttore Peppo Sacchi, fondatore di Telebiella A21. Sono particolarmente contento di essere stato premiato per la Lions Biella-Valli Biellesi perché il primo premio ufficiale è ricevuto a Viena. Allora adesso proseguirei con la consegna del Vice Presidente della provincia, Polazzo Scanzio, di consegnare questa... Grazie a Valle e al nostro... ...e al 5 copi bieda, la pergadena a riporto di questa bella serata. La Commissione ha conferito il premio a Beppo Sacchi con la seguente motivazione. Regista televisivo, ideatore e fondatore di Telebiela, con la sua geniale intuizione ha aperto la strada alla TV commerciale nel nostro paese. Grazie a tutti. Grazie a tutti.